Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di GemmaGamer, oggi siamo qui in un nuovo video, nello spacchettamento settimanale dei premi della Weekend League e Trivals. Come ben sapete, settimana scorsa ho fatto il mio primo Fuoriclasse 1, spero di ripetermi almeno la prossima settimana, da domani, tra Fuoriclasse 3 nuovamente e Fuoriclasse 1, ma non ci spero più di tanto, però godiamoci l'attimo. L'unica cosa ragazzi, io ho visto il Team of the Week questa settimana e sinceramente aprire due pacchi dell'IF garantiti con questi qui, dove l'unica interessante è il Ninja, a me non conviene, perché ragazzi il Nainggolan è fortissimo. Però, Fernandez costa 40k, Idem Misakoman, Demirbay 35, Oblak, quello un po' più di valore, anzi ve lo dico aspettate, in live, al momento di registrare, vado su football e vi dico il valore dei giocatori per farvi capire perché non li apro, anche se sono tentato perché se vi deve uscire qualcosa vi esce. Però ragazzi, purtroppo una volta faccio Fuoriclasse 1 non vorrei buttare i pacchetti, allora ragazzi, Oblak che vale 180k crediti, Marchignos 83, Bruno Fernandez 42, Nainggolan 206, quello che costa di più, Demirbay 36, Coman, ah Coman 87, ok, Balotelli 0, non ce ne sono sul mercato, poi abbiamo tutti gli altri 25, 25, 25, 25, Piontek anche che non ce ne sono sul mercato, 17, quindi ragazzi, quelli che hanno più valore sono Ninja, Oblak e Coman. Se trovo loro 2 tanta roba, se trovo loro 2 sono 400k crediti, sì. A me Ninja piacerebbe tanto, sapete perché? Vorrei provarlo al posto di Pogba, vorrei prendere, metterei Ninja al posto di Pogba con tersino destro Cancelo, che io adoro, e proverei una cosa di diversa, però ragazzi, se mi esce è buono. Allora facciamo una cosa, io adesso apro, spacchetto, tanto i Rivals prendo i crediti, adesso spacchetto, in base a come va, eventualmente, tra oggi e domani deciderò se aprire i pacchetti IF, e se li aprirò ragazzi farò un video al riguardo dove aprirò proprio quei 2 pacchetti tranquillamente. Comunque, fuori classe 1, 2 pacchetti premium T-Mod Week, 2 pacchetti giocatori Rarimaxi, 125k e 3 pick. Ragazzi, speriamo che da qua ci esce il Ninja, così ci evitiamo la spesa. Apriamo il primo pack. Butelle. Prendiamo lui in base all'overall, 1, 84, 1, 86 dammelo per piacere. Vai, che mia, grazie. Bruno Fernandez, ok, ragazzi, 86 ce l'ha droppato. Niente Ninja questa settimana, niente Ninja. E infatti, ragazzi, uno fa fuori classe 3, fuori classe 1, scusatemi, e questi sono i suoi player pick. Però, ragazzi, Bruno Fernandez, sembra interessante. Come Super Sub potrebbe anche essere interessante. Va bene, dai. Volendo il Ninja posso comprarlo, però ovviamente aspetto che si sistemano i prezzi, perché sinceramente non... Non mi ha letta l'idea di spendere 200k al momento. Ok, quindi abbiamo, sì, abbiamo 6 IF, ragazzi, 6 IF. Vediamo un po', apriamo questi due pacchetti. Facciamo in un walk-out, spero. Nessun walk-out, ok. Oh! One to watch. Uriel. Non avevo mai trovato un one to watch. Buono, dai, buono. Non so quanto vale, sinceramente. Oh, anche la casetta. Quanto vale questo qui? 20k, credo. Uh, 29. Vabbè, ragazzi. Eh, non si butta niente. La casetta, quanto vale? 16k, 15k. Questo qua va venduto. Questi qua vanno tutti tenuti. Sì, sì. E questi qua vanno venduti. E, ragazzi, ultimo pacco. Ma spero almeno nel walk-out di fuori classe, ragazzi. Ma, no, niente. Walk-out niente. Non ce li dà. Fuori classe 1, nessun walk-out. Facciamo in un 85. Ah, vabbè. Davidson Sanchez, che all'inizio FIFA costava un botto. Adesso non so, sinceramente, quanto vale. Però è anche doppione. Quindi teniamo questi qui. Quanto vale? Questo forse conviene anche tenerlo per le sfide. Comunque, mettiamo in lista trasferimenti con tutti. Ragazzi, pack opening molto brutto. Per fuori classe 1, sinceramente. Va bene, dai. Allora, andiamo a prenderci i crediti qui. Almeno è una cosa certa. E qui ci sono tre pacchetti mega scambiabili. Ho un pacchetto maxi. Allora, io me ne vado sempre sul sicuro. Perché i crediti sono una fonte di sicurezza. I sicuri li mettete da parte. Perché io devo riuscire a comprare, purtroppo. Non ci riuscirò questa settimana. Devo prendere blank. Devo prendere blank da mettere al posto di Baresi. Che non sta reggendo più di tanto. Quindi mi serve. Poi ho avuto la fortuna che, guardate, Sterling mi si è aggiornato 88. Quindi Winter Refresh. Chesney 89. Però Chesney non lo metto ancora, sinceramente. Perché non lo reputano necessario al momento. Perché è fortissimo. Poi ve l'ho detto, volevo provare Nangolan qui se mi usciva. Intesa 7 con Cancelo. Però non è uscito. Anche perché mi dava modo, se lo trovavo, di fare... Guardate, questo di Pogba costa su 290. Lo trovavo gratis. E via. Vabbè, comunque, il pack opening è stato questo. Molto brutto. Devo dire che anche se io faccio fuori classe, posso anche fare prima al mondo. Ragazzi, a me non mi dropperà niente. Questi due li tengo in bilico. Da una parte sarei tentato, dall'altra no, ragazzi. Come vedete, non mi dà niente. E vediamo un po'. Se decido di aprirli farò un video al riguardo. Anche un video di 5 minuti, ma ve lo metterò sul canale. Oppure, se avrò fatto dei cambiamenti della squadra, farò un video riguardante la squadra. E farò anche l'apertura dei pacchi. Detto questo, noi ci sbecca. Se riesco domani in live, ragazzi. Se mi passa l'influenza. Altrimenti ci becchiamo al prossimo video. Mi raccomando, fate un buon inizio di Weekend League. Noi ci sbecca al prossimo appuntamento. Un saluto da GemmaGamer. Ciao. Ah, e passate da Twitch, mi raccomando.